Benvenuti a una nuova puntata di Dal Vivo. Nell'appuntamento di oggi abbiamo in collegamento con noi Giulia Barbieri, signor fundraiser e cofondatrice di Non Profit Factory, che ci parlerà di un evento denominato Non Profit Women Talks che si terrà martedì 28 novembre a Chiama Milano in occasione dei 10 anni di attività di Non Profit Factory. Buongiorno Giulia e benvenuta. Ciao, buongiorno, grazie. Grazie a te di essere con noi oggi. Ti chiedo appunto di parlarci di che cos'è Non Profit Factory e come nasce questo progetto. Non Profit Factory nasce nel 2013 e anni fa. Nasce da un'iniziativa mia e di Veronica Mann, anche lei una collega che si occupa da molti anni di fundraising, comunicazione sociale e progettazione. Ci siamo incontrate nel 2013 in Umbria grazie all'Associazione Italiana Fundraiser che in quel periodo stava dando vita ai gruppi territoriali. Io ne ero referente. Quindi in una di queste iniziative ci siamo incontrate e non solo ci siamo trovate con lo stesso intento, ovvero quello di portare in primis nel nostro territorio la nostra esperienza professionale che fino a quel momento era stata all'estero e in altre regioni d'Italia. Quindi un'esperienza in ambito di fundraising, di comunicazione sociale e di progettazione per le organizzazioni non profit. Poi Non Profit Factory è cresciuta. Io nel 2017, quindi ormai sei anni fa, mi sono trasferita a Milano e quindi oggi Non Profit Factory è a Milano, ma è anche a Bologna e a Roma perché poi il Pink Team si è ampliato con Giulia e Alice e collaboriamo comunque con una rete di professionisti che poi ci supporta anche con competenze specifiche che si integrano alle nostre, proprio nell'affiancare le organizzazioni non profit. Il nostro lavoro è soprattutto quello di supportare le organizzazioni come consulenti con un approccio strategico, ma è anche operativo. le organizzazioni non profit che vogliono strutturare un ufficio di fundraising e lo facciamo con un approccio che poi porta l'organizzazione ad integrare il fundraising a tutte le altre attività e gli altri settori, quindi portando proprio l'organizzazione ad una capacitazione organizzativa più ampia. Quindi l'evento che ci sarà appunto la prossima settimana si chiama Non Profit Women Talks, donne che ispirano strategie chiave per una crescita sostenibile. E come mai la scelta di organizzare un evento interamente al femminile? Abbiamo deciso di organizzare Non Profit Women Talks proprio per la femminile, proprio perché questo rispecchia da una parte lo spirito, l'identità di Non Profit Factory che è un pink team, ma anche perché con questi speech, con questo dialogo tra donne, vogliamo riportare una visione femminile su tematiche che come Pink Team di Non Profit Factory ci stanno molto a cuore e ci hanno viste impegnate in questi anni, anche perché sappiamo che il mondo Non Profit, il cosiddetto terzo settore in Italia è prevalentemente composto da professioniste donne. Quali saranno quindi alcune delle ospiti principali dei partner durante l'evento e quali saranno i temi che verranno trattati nel corso della giornata? Sì, allora saranno 10 donne per i 10 anni di Non Profit Factory proprio perché questo evento celebra il nostro decimo compleanno dato appunto della fondazione nel 2013. Si parlerà di come le due leve strategiche del fundraising e della comunicazione sociale per avere un impatto davvero significativo sulla capacità delle organizzazioni di rispondere e sostenere la propria causa debbano necessariamente essere accompagnate da un processo capacitante, il cosiddetto capacity building dell'organizzazione. Quindi un vero e proprio cambio culturale che investe tutte le parti e gli aspetti dell'organizzazione, della capacità di strutturarsi di alto interno, coinvolgendo le proprie risorse umane, ma anche con attenzione alla capacità di interloquire e a lavorare insieme alle aziende, agli enti filantropici, agli amministrazioni, agli enti pubblici appunto per lo sviluppo di un welfare sociale partecipato e sostenibile. che modererà l'evento Elena Inversetti, giornalista di Milano All News che sono molto felici che sia partner, media partner di questo evento perché ormai si sta consolidando una relazione, una collaborazione importante che ci vede insegnate anche con Milano Non Profit, la trasmissione che realizziamo con Elena, ma anche con il Milano Non Profit Award. Quindi modererà Elena Inversetti, poi interverrà Maura Lagreca che è responsabile comunicazione e marketing dell'Antoniano, Zecchino d'Oro, Federica Maltese, il founder del Non Profit Women Camp, poi ci sarà Letizia Bucalo che arriva dalla Sicilia ed è una avversere e compitatrice sociale, Valentina Martano che invece è direttore e raccolta fondi di AISM, poi c'è una presidente che è anche un'imprenditrice Umbria, ma di un'azienda internazionale che è Beatrice Baldaccini che è vicepresidente Safe People in Brand Office di Umbria Group e presidente della fondazione Walter Baldaccini. Poi ci sarà Marianna Ghirlanda, CEO di DLV video che ha collaborato anche a lungo con Google, poi ci sarà un video intervento invece della portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore che è Vanessa Pallucci, interverrà per rappresentanza dell'amministrazione pubblica milanese, quindi del Comune di Milano e della città metropolitana, la consiglierà Diana De Marchi e concluderà la giornalista di vita Sara De Carli. Ci sarà poi anche una performance di un'attrice, Carlotta Mancini. Il tutto si concluderà, inizierà alle 17.30, saranno degli switch della durata di 10 minuti ciascuno e concluderemo alle 8, dalle 8 alle 8 e mezzo con un aperitivo, anche questo gratuito, di networking. Quindi è un evento gratuito, i posti sono limitati, quindi vi invito a iscrivervi sul sito di Non Profit Factory, quindi nonprofitfactory.com.it slash 10 anni. Ci proveremo martedì 28 novembre, dalle 17.30, come dicevi, a Chiamamilano, che è in via del Laghetto 2, proprio a 5 minuti dall'uomo. Perfetto, grazie per aver dato tutte le informazioni per chi fosse interessato a iscriversi. Io ti ringrazio di aver partecipato a questo collegamento e ti auguro un buon proseguimento di lavoro. Grazie a te e a presto.